custom fisso piccolo modello di Mike Craddock il fodero è di Parsons in pelle abbastanza carino fatto abbastanza bene il coltello come vedete è un piccolo fisso edc con lama da 4 pollici e mezzo in 1095 se vedete c'è un leggerissimo ammon è proprio quasi impercettibile forgiata dal costruttore manicatura in desert ironwood ergonomica abbastanza comoda anche nell'utilizzo pratico l'affilatura di questo modello è concava la lama è portata quasi completamente a specchio lo spessore credo che sia qualcosa in meno di 4 mm ottimo modello edc o da portare per piccole escursioni modello abbastanza bello e ben fatto Mike Craddock personal carry